Esami per le allergie? Parliamone! Vai sul mio profilo e clicca segui e trovi un sacco di video che riguardano anche le allergie. Dermatite interdigitale, quindi tipo quelle cisti interdigitali oppure le zampe molto rosse o il cane che si ciuccia le zampe. Dermatite su tutto il resto del corpo soprattutto sul pancino, sotto le ascelle e otite. Le otiti nei cani sono sempre o quasi sempre derivanti dalle dermatiti, tranne quando sono infettive ma questo è un altro discorso. Ora molto importante, la prima cosa da fare a parte curare la patologia acuta è andare a cercare la causa, quindi le allergie sono la maggior causa di questo tipo di problemi. Le allergie alimentari sono estremamente rare, le allergie ambientali sono invece molto frequente, ma per fortuna le allergie ambientali possono essere diagnosticate in modo molto molto efficace con gli esami del sangue. Questi esami possono essere più o meno approfonditi a seconda poi della terapia che si vuole impostare. Io divido in genere per grandi gruppi. Nel momento in cui tu hai la diagnosi, quindi sai a che cosa è allergico il tuo cane, puoi essere anche efficace nella terapia. Quindi decidere per la vaccinoterapia, per gli anticorpi monoclonali oppure se basta solo la gestione ambientale e del tuo cane. E a tal proposito ricordati che se stai gestendo il tuo cane dal punto di vista delle allergie, il tuo veterinario deve fare gli incroci magici in modo da non sovradosare gli antiparassitari. E il tuo cane soffre di allergie? Scrivimelo qui sotto nei commenti.